Chi sono gli Amici di San Rocco? Gli Amici di San Rocco sono un gruppo di amici capitanati da Marcello Cassinelli che è di Zerli e quindi il nome di Amici di San Rocco prende il nome proprio dalla località che è un punto meraviglioso del nostro introterra. Siamo un gruppo che ci dedichiamo a queste iniziative con due finalità. Una è quella di creare un momento di incontro, di convivialità, di mangiare bene, di stare in compagnia, di essere amici e l'altra è quella di recuperare qualche cosa e ricavare della spesa che avranno le persone a tavola e servirà poi per opere di aiuto sociale o per aiutare qualche persona che ha bisogno. Come nasce un po' questa idea di aiutare la mensa dei frati di Chiavari? L'idea nasce dal fatto che noi stiamo già facendo tutta questa beneficenza nella Val Graveglia e abbiamo pensato anche di dare un aiuto alla mensa dei frati Capuccini di Chiavari in quanto parlandone con padre Lorenzo ci ha fatto presente che avrebbero avuto bisogno di una mano. Da qua nasce anche l'idea di cercare in futuro di ripeterla e di farla diventare un classico chiavarese. Giornalmente voi a quante persone date accoglienza in questa mensa? La norma è 50, dai 50 qualche volta arriviamo ai 60, qualche volta anche un pochino di più ma norma è 50 persone tutti i giorni dal lunedì al sabato. Dobbiamo dire un grazie agli amici di San Rocco di Zerli. Un grazie è grande perché si danno l'opportunità non solo di raccogliere qualche cosa per la mensa ma anche di far sentire più dalla città la presenza della nostra opera che per Chiavari è importante. E poi bisogna dire anche che cerchiamo di trattare bene i poveri. Cristianamente, eh? Cristianamente.